E' uscita di strada ed è finita ribaltandosi più volte nel campo sottostante la carreggiata. E' accaduto questa sera, domenica 14 ottobre, intorno alle 21, sulla strada provinciale 58 che conduce a Quornier, all'altezza di Frazione Spineto, ad una Fiat Punto condotta da un 45enne di Castellamonte. Sul posto sono prontamente intervenuti le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri di Castellamonte. L'uomo ha fortunatamente riportato solo qualche scoriazione ed è stato accompagnato all'ospedale di Quornier per controlli. Grazie a tutti.